Soprattutto ringrazio il sindaco e la famiglia romana per dare la possibilità a un giovane di prendersi delle responsabilità, vi posso assicurare che non accorgono tutte le amministrazioni perché molte volte i giovani vengono messi alla ribalta durante le campagne elettorali, vengono come raccoglituri soltanto di voti e poi vengono messi lì all'angolo, passano in tira legislatura e non vengono per niente messi al centro dell'azione amministrativa. Quindi questo è un altro scommesso, un altro messaggio di forza che il sindaco Romani vuole dare a questa amministrazione e infatti consegne una delega consigliare al consigliere più giovane di tutto quanto l'amministrazione. Innanzitutto voglio dire che non importa per me una delega o un assessorato, quando uno ha voglia di fare, fa, punto e basta. D'altronde un assessorato significa soltanto per me non percepire un compenso, però l'apporto che si può dare alla città è lo stesso, quindi non cambia nulla. Per me tantomeno penso che con una delega si voglia sminuire il valore dello sport oppure il valore che si vuole dare allo sport in questa amministrazione. Voglio anche dire che in questa amministrazione il sindaco e tutta quanta l'aggiunta ha messo in bilancio una somma importante, quindi sicuramente se nel lustro precedente qualcosa non si è fatto bene nello sport ci sono i presupposti per poter fare bene. Quanto la somma a disposizione è importante, quindi secondo me si guarderà in maniera importante sulla riorganizzazione delle strutture sportive. Voglio anche aggiungere che il mio ruolo sarà superparters, quindi al di super dalle parti, in quanto per me tutti gli sport saranno uguali, dalla danza al calcio alla pallavolo, alla pallaganesto, quindi il mio ruolo sarà imparziale e invece di parlare di competenza io proveri a parlare di ascolto, perché secondo me le associazioni in questi anni si sono sentite abbandonate, non ascoltate, quindi quello che voglio portare dal mio punto, con molto umiltà, sarà quello di ascoltarle, innanzitutto convocarle tutte, ascoltare quindi e rendicontare quello che realmente possa servire a queste associazioni, è una verifica, un controllo bimestrale, se non anche mensile, nei sopralluoghi, quindi vedere personalmente a che punto sono i lavori, che difficoltà ci sono, che migliori sono apportate. Quindi un rispetto per tutti e un confronto continuo, ma soprattutto quello che voglio sottolineare è il gioco di squadra, nel senso che non è possibile vedere come ho già assistito in trasmissioni da casa a triti tra società sportive, che non serve a nulla, facciamo una guerra tra poveri, quindi dobbiamo soltanto fare squadra e stare insieme, come lo facciamo in amministrazione, tra i consiglieri, tra i presidenti della Commissione dello Sport, che alla fine se si vuole far crescere lo sport, l'unico messaggio che voglio dare è l'unione, non serve fare battaglie che non portano mai i risultati. Niente, come già detto il sindaco, nelle linee programmatiche si parla chiaramente su quale strada si vuole puntare, quindi nel recuperare quelle strutture sportive che in un certo qual modo versano in condizioni di disagio e quindi bisogna puntare sulla riorganizzazione di queste strutture qua, provare anche a rivedere quelle convenzioni che in alcuni casi ci sono, in altri casi non ci sono, con delle associazioni sportive che vorrebbero prendersi anche loro delle responsabilità, migliorare il servizio ai ragazzi e quindi all'utenza in generale. Pertanto io penso che bisognerà continuare sulla linea, quindi già mandata avanti dal sindaco, infatti nello scorso 5 anni si sono spesi circa 5 milioni di euro per quanto riguarda l'arriugamento delle strutture sportive in riguardo alle scuole. Quindi bisogna ricontinuare, continuare su quella linea perché le scuole hanno un doppio compito, sia quello formativo che quello educativo e sportivo, quindi va bene continuare sulle scuole, bisogna intensificare sulle strutture sportive e come dicevo in precedenza, ascoltare con molta umiltà tutte quante le associazioni e provare a trovare un punto di incontro. Grazie.